Nell'ambito delle direttive impartite dal questore di Caltanissetta, Filippo Nicastro, volte alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, sono stati tratti in arresto tre soggetti dagli agenti del commissariato di Gela. Il primo a finire in manette è stato il 23enne di nazionalità romena, Catalin Florin Toma, su ordine di esecuzione messo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, che dovrà così espiare la pena residua di otto mesi e ventotto giorni di reclusione per essersi reso responsabile di un furto con strappo commesso a Gela un paio di anni addietro. Altro soggetto arrestato in esecuzione dell'ordine di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione messo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Gelese è un albanese di 24 anni, residente a Gela, Igland Bodinaku, che dovrà scontare due anni e quattro mesi di reclusione poiché è stato riconosciuto colpevole di alcuni reati commessi nel 2009. Nello specifico il 24enne, insieme ad altri soggetti, commise un furto all'interno di un'abitazione asportando una refurtiva per un valore di circa 1000 euro aggredendo inoltre, come se non bastasse, i proprietari della casa. Sempre gli agenti del commissariato gelese hanno arrestato un'esecuzione dell'ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare il 47enne originario di Avellino ma residente a Gela Giuseppe Salvatore Bevilacqua, pluri pregiudicato per reati di mafia. Bevilacqua dovrà scontare quattro mesi di reclusione poiché è ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria commessa nel 2008, periodo in cui risultava sottoposto al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella città del Golfo. Oltre agli arresti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria il 21enne nato a Vittoria ma residente a Gela, DBRS e le sue iniziali, per ingiuria e minaccia commesse lo scorso mese di agosto a Gela a seguito di un precedente episodio di aggressione avvenuto nella nottata tra il 26 e il 27 luglio scorso all'interno di una discoteca per motivi di gelosia per l'ex fidanzata e il 43enne gelese a N le sue iniziali per lesioni personali e minaccia commessi sempre a Gela circa una settimana fa. Nello specifico i poliziotti della squadra volanti a seguito di una segnalazione per lite in famiglia sono intervenuti per sedare una colluttazione avvenuta per futili motivi tra due fratelli constatando che proprio il 43enne gelese che da tempo assumeva atteggiamenti violenti contro i familiari aveva aggredito il fratello con un coltello a serramanico procurandogli ferite da taglio sul collo.